Allora ragazzi, vi piace questa estensione? A me piace moltissimo, quindi potrei anche girarci sotto, sopra, andare su Facebook e Facebook e poi la carico, si, Facebook, no? Che differenza fa? Oh, ragazzi. Ah, Dio Dio, che guerra. Bene. Allora, chiudo qua, perché ho finito, praticamente. No, altro da dirvi, se vi piace il mio profilo, basta che lo diciate, io, eccolo qua. Ti piace? Se piace, piace, c'è una piacenza. Che giorno è? Ah, giovedì è il giorno di picchiatelle, quindi devo fare la mia parte, cosa volete. Saluto a tutti, Regino. Ehi. Oh. Ciao a tutti.